Al 42esimo la rete è buona questa volta ma per la Cremonese e Tentoni che di testa segna l'1 a 0. Al 37esimo la seconda rete e Floriancici è subentrato a Chiesa a segnarla. Guardate adesso Serena ostacola Zenga e Floriancici segna indisturbato la rete del 2 a 0 definitivo.